Ciao cantanti, come state? Come state? Allora, volevo ringraziarvi perché siamo arrivati a 5.000 iscritti sul canale di Voce al Top e contemporaneamente anche sul gruppo Facebook di Voce al Top siamo arrivati a 2.000 e oltre cantanti iscritti. Quindi volevo ringraziarvi, in arrivo c'è un nuovo video quindi se avete delle domande, se volete magari ricevere qualche chiarimento sulla tecnica vocale postatela qui sotto questo video oppure scrivete ad assistenzachiocciolavocealtop.com e sarò felice di rispondervi. Quindi che dire, vi auguro un buon canto, mantenete viva la passione a cantare perché è qualcosa di trasversale che prende tutti e questa è una cosa bella, quindi non tiene conto dell'età, quando mi chiedete ma io ho questa età, ho 40-50 anni, ma ce la posso fare? Guardate, è qualcosa che potete scoprire da soli, quindi iniziate a studiare da voi stessi e anche con i video gratuiti che trovate nel mio canale, con il videocorso che trovate su vocealtop.com e già troverete delle soddisfazioni, però avrete delle belle soddisfazioni. Quindi il canto è qualcosa che ci rende felici ed è capace di rendere felici gli altri, dunque non vi fate fermare da pensieri magari che vi mettono in testa, non lo so, amici, parenti, familiari e così via. Se avete questa passione coltivatela e cercate di farlo al meglio, tutto qui. Ok, buon canto a tutti, ciao!